Come si fa da che erano il profilo? Tranquillo ci penso io Abbiamo poco tempo Ragazzi se non abbiamo i suoi dati o il suo telefono Sta arrivando Ma questa non è per te Fatti che ti ha detto niente E due se questa volta Charlotte mi dice di no Io mi arrabio proprio in una maniera Speriamo che ti dice di no Sai che scherzo se ti dice di no? Stanno suonati Stanno suonati Sì Sono arrivati Allora siete pronti? Ciao Allora ho il telefono pronto Per fare il tiktok di pane e burro Ok Dovete essere super carichi Ho portato anche la pignata Così la scoppiamo magari nel tiktok Sì Vabbè 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 Ok Ok Allora Come state? Vai Allora Allora siete pronti per fare il tiktok Sì o no Vi voglio sentire carichi Perché prima Giovanni non l'ha fatto proprio bene il balletto Sì Cosa? Che stai facendo? Dai Ma che stai facendo? Ma ragazzi Oh Alessandro dai Dai No Giovanni lo canti di un telefono Lo do Ma perché devi darmi? Andiamo in telefono Andiamo in telefono Andiamo in telefono Andiamo in telefono Giovanni Lo do Giovanni Andiamo a parlare Te lo do Ma tu cosa? Non lo do Sto cellulare No No Io lo do Giovanni Punto Vabbè Dove mi devi portare? Andiamo Charlotte Ti faccio cambiare un po' di umore Tieni ti ho fatto un regalo Mi spiegate ditemi che è una scherza tutta questa storia Che è una scherza E' una forse Louis Vuitton Mi dai il telefono di Charlotte per favore Ora te lo do Che devo fare? Ora te lo do Perché chiudi la porta? Non capisco Ma a me lo dai il telefono di Charlotte Sì te lo do il telefono di Charlotte Te lo faccio le scarse Ma perché? Mi devo levare le scarse? Sì Ma perché? Levo il telefono Vuoi il telefono di Charlotte o te lo do? Sì Ma allora? Ora se lo do Che devo fare? Ora se lo do il telefono lo vuoi o no? Sì dai Veloce Vuoi il telefono di Charlotte? Ma che? Lo vuoi o no? Che fai oh? Oh! Cosa stai facendo? Ce lo vuoi o no? Baby Lo vuoi o no? Sì dammelo Lo vuoi o no? Dammelo Lo vuoi o no? Sì vuoi o no? Io non scherzo Allora ragazzi potete darmi il mio telefono vi prego Ma ti avete un regalo che non rispondi? Esatto Ho visto il mio telefono non di un altro regalo lo capite? Ma questo costa più del telefono Che ci fa il mio canale qui? Ragazzi? Perché c'è tutto il mio canale qua? Mi spiegate che sta succedendo col mio canale? Che cosa state facendo qua? Sai dopo che ho perso Tommaso il bambino era anche l'ora di hackerarti il canale no? In quel senso che era il mio canale? Poi da quando hai perso il bambino? Oh da un po' Che state facendo? Vado a vedere cosa stanno facendo gli altri Charlotte aspetta No Augusto qualsiasi cosa tu mi voglia chiedere? Assolutamente no Che stai facendo? Niente Niente Che cosa? Vi dai il cellulare di Charlotte per favore Hai visto? Ma Ma Vedi sono mezzo Poi andai te Allora Stai zitto e bacia Ma secondo te facendo le torre a Charlotte Ma secondo te faccio le torre a Charlotte? Ragazzi che cosa faccio? Non ci posso credere Qualsiasi ragazzo con cui sto Prima ci prova con me Poi va a baciare le altre Ma non è vero? Io non ci posso credere Ma non è vero? Sì che è vero invece Non è possibile che ogni volta deva essere così Ma l'ho appena detto che Sì è sempre così Giovanni Quindi adesso stai con lei Stai zitto Io vado a casa Sì No 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 Perché? No io non voglio Tu Charlotte mi hai detto di no E ora fai in gabbia Andiamo a casa Che significa fai in gabbia No no Andiamo Ora lo scopo No 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 Andiamo 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 Ma scusami Angelo Se l'apro dov'è? Il mio telefono è suo Ce l'avete voi? Io non ce l'ho Ok allora intanto No Vieni vieni Eh no devo prendere le chiavi Dai vieni vieni dai Vai Dai c'è la tua proposta Passa che non mi metti lì Eh però No scherzo no Una volta mi fai fesso Due no Vai dentro Vai 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 Aiuto Eh una volta mi fai fesso Due no Ma perché? Vai Aiuto Ma mi spieghi perché hai fatto tutto ciò? Ma non l'ho fatto con cattiveria ma tu non lo sai quando ti vedevo in discoteca ti facevo sempre complimenti cioè non si vede che mi piaci Ma cosa vuol dire? Ma te vai a rovinare una relazione e ci devo un sacco a charlie Non è per rovinare però Anzi io ci tengo Almeno con i piccoli frammenti vorrei farti capire che comunque mi interessi Ho capito ma se sai che sto insieme a una ragazza e ci tengo tantissimo perché devi andarvela a rovinare Ma non state insieme cioè lei non ti ha dato una risposta da come ho visto nei video Andiamo a prendere il telefono di santo Andiamo andiamo Ragazzi dove andate non ce l'ha fatto Non posso fare Non c'è Non c'è Non ti auguro Non ti auguro Non t'auguro Non ti auguro 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 Aspettate Ok Dov'è? Francesca 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 grazie a Dio che hai risposto Ok Bene Adesso ti mando il numero di Giovanni E ti spiega tutto lui ok Tu digli che mi devi salvare ok Che sono chiusa in una gabbia Su nel giardino e che mi deve salvare Ok muoviti Ti mando la posizione Oh mio dio Aiuto Aiuto Comunque hai sbagliato Te mi devi aiutare perché io ci tengo troppo a Charlotte Per favore Alessandro dov'è il telefono di Charlotte? Giovanni ma te non me l'hai reso Non c'è nulla in bagno Puoi andare anche a vedere Ma che ti l'ha fatto? Mi avete lasciato da sole Io non riuscivo a partire è troppo pesante Ma cosa? Niente Giovanni Chi sei adesso? Dov'è Charlotte? In gabbia Non lo so In pericolo Vuoi andare a vedere se ci metto pure a te in gabbia? Si andiamo Tu asciugamano andiamo Charlotte Charlotte ti spiego tutto Ti spiego tutto Adesso il libro Adesso il libro Charlotte Ma dov'è la mia moto? Chi l'ha preso scusate? Ci ho pensato io Guarda questa Oh Ora Ora finché non mi liberate Francesca Non mi dà la moto Ci vorrebbe uno scambio di chiavi Quindi Giovanni ci va a entrare con te dentro? No 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 però ho l'idea Ho l'idea in mente Ho l'idea in mente Si dilla Allora Visto che noi all'inizio io e Charlotte abbiamo portato la pignata Si Allora facciamo quel giochino lì Chi prende meno caramelle entra qui dentro Va bene va bene va benissimo Vado a prendere la pignata Vai Quindi lo facciamo? Dai fatelo Vai Charlotte Libera Mi sto bagnando tu Hai bisogno? Senta Ci sei? Charlotte vieni ti devo spiegare tutto davvero Che la salita Dai per favore Dai Andiamo 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 Allora prima il proprio bastone Iniziamo? Dai vai Occhi credi più caramelle al dito Giovanni dammi un po' se non vuoi che finiscono Grazie bene Tieni tieni Charlotte Grazie Dopo Giura si deve parlare No Allora dammi tutte le tue caramelle se vuoi parlare. Piuttosto sì. Ragazzi, chi ha meno caramelle va in gabbia. Giovanni. Eh, Giovanni. Sta a te. Vera. Chi va in gabbia. Va in gabbia. Ragazzi, basta. Ragazzi, basta. Ragazzi, basta. Basta, pigliamola qui, ti prego. Francesca, dimmi anche tu, basta. Oh mio Dio, sta riniziando di nuovo. Ragazzi. Per piacere, possiamo finirla qui, tregua. Vai. No, no, non ci voglio andare. Vai, vai, vai. Ragazzi, basta. Ragazzi, basta. Ragazzi, basta. Ragazzi, basta. Ma io non c'entro. Vai, vai, scelto, scelto. Ma, eh, pigliore o dov'è la mia moto? Eh, di là. Ok, valla a prenderla. Ok, valla a prenderla. Basta, ragazzi. Aiuto. Ragazzi, avete rinchiuso, ci vanno nella gabbia. Ci voglio entrare anche io. Vai, vai. Suite matrimoniale. E' pronto. No. Vai, vai. Non ci posso credere. Dai, ho super suite. Vai. Scusami, per favore. Scusami. Scusami. Senti, vai con Alessandra nella gabbia. Dai, scusami. Vai. Vai, vai. Oh, liberatemi la testa coppia, voglio parlarci. Vai, vai, vai. 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 Perfetto, fine. Dai, è finita la tortura. NO! No!